Amici, chissà quante volte avete visto scritto prima di un video importantissimo, condividete, non potete non condividere le cose che sono contenute in questo video, sono incredibili e sono importantissime. Ebbene, nel video che seguirà dopo questa mia piccola presentazione, io sono rimasto senza parole. Non so voi, non esiste niente al mondo che possa lasciare imbarazzati, incazzati. Non riesco a trovare gli aggettivi giusti per far capire che cosa hanno fatto ai nostri danni certe persone. Gustatevi il video, non abbandonatelo a metà strada. È la verità, assolutamente la verità. Buona visione. La Matrix Europa? Sì, la Matrix europea. Devono prenderlo attraverso il sito francescomodio.it perché è stato totalmente censurato da tutte le librerie. E perché? Si tratta un argomento molto forte facendo nomi, cognomi, responsabilità e inchiodando alcuni dei politici che abbiamo avuto alla Presidenza del Consiglio e non solo, ha delle enormi responsabilità. Quindi racconto quello che io definisco un golpe finanziario ai danni dell'Italia e per la prima volta si introduce il tema del cartello finanziario. Abbiamo sentito parlare del cartello della Camorra, del cartello dei Narcos. Nessuno ci ha mai descritto il cartello finanziario che invece è quello che tiene in pugno i popoli e le democrazie. Sì, quali sono? Tutti coloro che hanno messo in campo azioni politiche mirate al completo svuotamento delle sovranità nazionali. Quindi come ho voluto iniziare la mia inchiesta giornalistica? Ho voluto tracciare quelli che sono stati i principali trattati, le principali leggi che hanno portato al completo svuotamento delle sovranità nazionali. Questo dall'entrata dell'euro fino ad oggi. Anzi, addirittura sono partito dal 1981, quindi con la divisione dal Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia. Quindi affidando direttamente al mercato la nostra unica possibilità di finanziarci. La mia inchiesta prosegue con i responsabili dell'entrata nell'euro, della firma del Trattato di Maastricht, della privatizzazione degli enti pubblici, fino ad arrivare alla firma del Fiscal Compact, il pareggio di bilancio in Costituzione. E ho provato a vedere se questi personaggi avessero qualcosa in comune, qualcosa che in qualche modo li legava. Mi sono reso conto che tutti questi trattati avevano sottratto potere ai popoli e lo avevano messo in mano della finanza speculativa. Quindi la prima cosa che ho fatto è chiedermi qui Prodes, cioè a chi ha beneficiato di questi trattati, di queste leggi e di queste cessioni di sovranità. E mi sono trovato di fronte ad uno scenario incredibile, perché tutti coloro che avevano effettuato questi veri e propri attacchi al nostro Paese avevano in comune tutte le stesse organizzazioni ufficiali della finanza speculativa. Cioè esistono delle organizzazioni, anche se censurate dai media tradizionali, ma sono ufficiali, come possono essere il Club Bilderberg, come potrebbe essere la Commissione Trilaterale, come potrebbe essere il CFR, il RIA, il Gruppo dei Trenta. Ci sono dei potentati bancari come la Goldman Sachs, che accomunano tutti i politici italiani, che dal 1992 ad oggi hanno traghettato l'Italia verso una vera e propria dittatura finanziaria. Quindi coloro che hanno beneficiato delle leggi messe in campo da quei politici sono gli stessi che hanno favorito l'arrivo al governo di quei politici stessi, lo scatto di carriera nelle varie istituzioni europee di quei politici stessi. Un aspetto particolare del libro, perché è un libro di denuncia, ma chi è quello che è stato preso di più di mira? Lasciamo stare tutti gli altri, ma c'è un personaggio che secondo te è colpevole? Colpevole Monti come Prodi, come Draghi, come Ciampi, come Andreatta, quindi colpevoli tutti. C'è un capitolo che si chiama Cronologia della dittatura finanziaria dove io dico ognuno che ruolo ha avuto. Sicuramente l'apice si è raggiunto con Mario Monti, con l'arrivo di un governo tecnico nel 2011. Se io chiedessi ai nostri telespettatori, o alle persone qui al mio fianco, Mario Monti come ce l'hanno presentato? Che cosa ci hanno detto? Chi era Mario Monti prima di essere un professore della Bocconi? Mario Monti era il membro del direttivo del club Bilderberg di Rockefeller. Quindi il membro del direttivo della più grande lobby della finanza speculativa mondiale, ufficialmente. Quando lei mi dice perché non l'hanno denunciato, perché sono dati ufficiali, non li ho inventati, io sono ufficiali. Mario Monti era il presidente europeo della Commissione Trilaterale, un'altra delle più grandi lobby della finanza speculativa. Mario Monti proveniva dalla Goldman Sachs, Mario Monti proveniva dalla lobby Belga Bruegel. Ci hanno detto che era un rettore della Bocconi, quindi l'ultimo dei suoi incarichi. Io voglio spiegare una cosa in poche parole. Quando io parlo di questi gruppi, non parlo di complottismo, perché il complottista è chi racconta cose incredibili che non può dimostrare. Io invece ho dimostrato cose incredibili che non potevano essere raccontate. Perché quando arriva al governo Mario Monti come presidente europeo della Commissione Trilaterale, la Trilaterale è gente che nel loro report, e esiste un report ufficiale che si chiama The Crisis of Democracy, con la firma addirittura di Gianni Agnelli, nel loro report scrivono la democrazia non è sempre applicabile, bisogna stracciare le Costituzioni, i popoli devono vivere in uno stato di apatia, bisogna superare con le tecnocrazie quelli che loro chiamano gli eccessi di democrazia. Questo lo scrivono nel loro report e noi abbiamo permesso che il presidente europeo di un'organizzazione che scrive queste cose nel loro report venisse messo a capo di un governo democratico. A chi scrive che la democrazia non è sempre applicabile, noi abbiamo dato in mano un Paese democratico. A chi scrive che andrebbero stracciate le Costituzioni, noi abbiamo dato l'agio di poter modificare la nostra Costituzione senza chiedere il consenso agli italiani, di quello che è avvenuto con l'introduzione del pareggio di bilancio. A chi proviene dalla Goldman Sachs, che è una delle banche che ha indotto la crisi sui mercati, noi abbiamo dato la possibilità di sollevare il Paese della crisi. E che cosa è successo a quel punto? Il numero dei poveri è raddoppiato perché abbiamo dato soldi. Come si chiamano i bond che ha firmato Monti? Si chiamano i Monti Bond, al Monte dei Paschi di Siena, 4 miliardi nel momento di massima crisi. Monti ha pagato in anticipo i derivati tossici alla Morgan Stanley. Monti ha pagato 40 miliardi di euro al meccanismo europeo di stabilità per far rientrare la Germania dagli incauti prestiti che aveva fatto alla Grecia. Quindi tutte scelte sbilanciate in favore della finanza speculativa perché era stata la finanza speculativa a metterlo lì. Perché lui era membro di spicco di quelle organizzazioni. E se volete vi racconto come è arrivato al governo, perché io ero lì. E qual è la figura allora a questo punto di Napolitano e poi di Renzi come Presidente del Consiglio? Perché è stato Napolitano. Napolitano quello che Henry Kissinger, quindi uno dei promotori di queste organizzazioni, chiamava il mio comunista preferito, quindi che Napolitano addirittura ha accolto anche più volte in Italia, è stato il trade in on. Voi dovete sapere una cosa. Nel 2011, io ero a St. Moritz fuori a questo hotel, perché la riunione era ufficiale, si riunivano a St. Moritz a giugno del 2011, come italiano c'era Mario Monti, ok? Come invitato italiano, è ufficiale, lo trovate anche sul sito dell'organizzazione. Mario Monti però non era un semplice invitato, ma era un membro del direttivo. Insieme a lui sapete chi c'era? C'era Jean-Claude Trichet, Presidente della Banca Centrale Europea, c'era Joseph Ackerman, Presidente della Deutsche Bank, e c'era Peter Sutherland, Presidente della Goldman Sachs. Erano insieme a lui, non come invitati, quindi non insieme ai 120 invitati, ma nel gruppo direttivo. Ora voi mi direte, e cosa c'entra Monti insieme a questi personaggi? Un rettore della Bocconi insieme al Presidente della Banca Centrale Europea, della Goldman Sachs e della Deutsche Bank. Se voi aprite i giornali, subito dopo quella riunione, quindi i giornali di luglio del 2011, leggete, i giornalisti, ma i giornalisti italiani, parlo di Repubblica, quindi parlo non di giornalisti che tirano a favore del governo il cambiamento, che scrivevano, ma perché la Deutsche Bank ci sbatti all'inferno vendendo l'88% dei nostri titoli di Stato? Ma perché la Goldman Sachs improvvisamente crea la crisi dello spread? Ma perché la Banca Centrale Europea manda una lettera al governo Berlusconi con delle misure irrealizzabili in quel periodo e contro i popoli? Che cosa hanno causato le scelte di queste tre banche? Hanno causato quella che si chiama la crisi dello spread, che ha portato al governo, guarda casa, il quarto uomo che era con loro in quelle organizzazioni. Quindi quando io parlo di golpe finanziario, qualcuno mi può smentire, le riunioni sono ufficiali, nel direttivo lo potete leggere hanno insieme, e le azioni mirate di queste tre banche hanno causato la crisi dello spread che hanno portato al governo proprio il quarto uomo che era con loro, che poi ha messo in essere tutte azioni a favore delle potentate bancari che lo avevano messo lì e contro i popoli e contro le democrazie. Loro che scrivono che la democrazia non è sempre applicabile, che ci vuole la tecnocrazia e che andranno stracciate le Costituzioni. E l'introduzione del fiscal compact e del pareggio di bilancio in Costituzione, la nostra Costituzione l'ha stracciata. Mi dicono ripetere questa trasmissione tutti i giorni. Ti aggiungo un'altra domanda e poi aggiungi quella che vuoi, perché è la trasmissione della verità. Che ne dicono sinistra? Ragazzi, questi sono fatti veri e documentabili. Ha fatto un lavoro tremendo, è stato bravissimo. È stato bravissimo. Io l'ho invitato per quello. Se qualcuno vuole finire, su internet ci sono le mie immagini fuori a questo tema. Ma cosa potremmo fare adesso, Francesco? Quello che stiamo facendo. Cioè, spieghiamo, perché le accuse le abbiamo fatte. Abbiamo spiegato che cosa accade. Però dobbiamo dire, noi signori, per poter... Sostenere questo governo che è l'unico possibile. Quale governo? Governo del cambiamento. Ah, questo. Che ha un solo peccato originale. Si dovrebbe chiamare governo della liberazione, perché tra cambiamento e liberazione c'è una differenza. Cambia tutto? Sì, cambia tutto. Perdonami, Francesco. Sì. Io inizierò a chiamarlo governo del cambiamento, quando verranno aggredite anche le banche, non più i cittadini. Ma, allora, quando ti trovi di fronte a questi scenari, non puoi pretendere tutto e subito. Ma è il miracolo che è avvenuto il 4 marzo, e noi ce ne dobbiamo un attimo rendere conto. Noi stiamo parlando di scenari in questo periodo, sia nel dibattito parlamentare, nel dibattito europeo, che nel dibattito televisivo. Noi stiamo parlando dei problemi dell'euro. Signori, i problemi dell'euro non sono nati il 4 marzo. Sono nati tre anni prima dell'entrata in vigore dell'euro. I problemi di cui parliamo oggi. Il problema dei vincoli europei. Non sono nati il 4 marzo, sono nati nel 1992. Il problema dei paesi che sforano, come la Germania, che dopo l'entrata nell'euro la Germania ha sforato tutti i vincoli, di cui noi parliamo adesso, l'ha fatto 18 anni fa. Quindi che è successo? Noi siamo rimasti praticamente ibernati per 25 anni, perché c'è stata una cristallizzazione del processo democratico, perché nessuno sapeva nulla. Il miracolo, se noi oggi parliamo di queste cose, vi rendete questo coso è scattato? Noi stiamo parlando di cose come se fossero accadute ieri, e oggi ne discutiamo. Sono cose accadute 20 anni fa, e ne stiamo parlando oggi. E questo è il miracolo che è avvenuto il 4 marzo, che la gente non ha capito. Ed è un miracolo irreversibile. Possono accoppiarsi PD, 5 Stelle, possono far cadere il governo, possono fare un nuovo governo tecnico. Le politiche che sta portando avanti Salvini, e quindi il governo del cambiamento, sono le uniche possibili, perché c'è stato un risveglio delle coscienze, ci siamo usciti da questo stato di ibernazione. Ma com'è che noi parliamo dei problemi dell'euro? I problemi dell'euro sono nati nel 2000, e lo ripeto, forse tre anni prima dell'entrata in vigore. Noi siamo andati in deficit nella bilancia dei pagamenti, abbiamo avuto il calo della produzione industriale, lo abbiamo avuto subito dopo l'entrata nell'euro. Perché ne stiamo parlando ora? Perché per le dinamiche che ho spiegato prima, hanno cristallizzato il processo democratico, ci hanno ibernati. La disinformazione mediatica, e qui apro una piccola parentesi e che concludo, nel 2014 io ero fuori alla riunione del Bilderberg di Copenaghen, entra una sola giornalista italiana a quella riunione, si chiamava Monica Maggioni, era direttrice di Renews. Non sto dicendo nulla di strano, è ufficiale l'ha dichiarato. Entra a quella riunione. E' stato dichiarato. Ok, ora io non voglio dire, qualche mese dopo Monica Maggioni diventa Presidente della RAI. Presidente, sì è vero. Ora, io o faccio il complottista, e dico, secondo me è diventata Presidente della RAI, perché aveva il supporto di queste organizzazioni. No. Io però dico una cosa. Proprio perché partecipava a quelle organizzazioni, lei Presidente della RAI non poteva diventare, perché la RAI è una TV di Stato. Deve essere il megafono di quelli che sono i valori della democrazia. Non puoi partecipare a un'organizzazione che dice che la democrazia non è sempre applicabile. Tu devi portare avanti in televisione i principi costituzionali. Non puoi far parte di un'organizzazione come la Trilaterale, della quale lei fa anche parte, che dice che vanno stracciate le costruzioni. È lo stesso discorso che facevo con Monti. A me non preoccupa la partecipazione a queste organizzazioni, a me preoccupa il ruolo, il grandissimo conflitto di interesse che hanno dopo, arrivando a capo delle istituzioni democratiche del Paese o della TV di Stato. Perché la Vigilanza RAI non ha aperto un dossiere come poi ha fatto con FOA? Cioè un grande giornalista libero come FOA deve essere messo i bastoni tra le ruote e il membro del Bilderberg, il membro della Commissione Trilaterale come Monica Maggioni, che lei può andare a tutte le riunioni che vuole. Ma se tu partecipi a queste organizzazioni perché vuoi far parte di questi salotti, non puoi diventare il presidente della RAI, della TV di Stato. Ma perché nessuno l'ha detto? Perché ero l'unico a sbandirare queste cose? Ma noi l'abbiamo detto nelle nostre trasmissioni matutine. Certo, certo. Trasmissioni libere come voi. La tua opinione, me lo chiede un telespettatore, vuol sapere cosa ne pensi di Saviano. Siamo al giorno dopo una lettera che io ho postato sul web che si chiama Lettera di un ex giornalista di cronaca di Camorri a Saviano che è diventata virale. Penso che lui ha capito quale sistema può toccare e quale sistema non può toccare per i propri interessi. Quindi lui ha portato avanti questi attacchi verso alcuni membri della criminalità organizzata ormai andati, ormai già all'ergastolo, ormai già finiti e non ha mai toccato i scenari di cui stiamo parlando stasera. Certo, qualcuno potrebbe dire non è che uno può denunciare tutto, magari ognuno si specializza in una cosa, però Saviano oggi viene visto come un intellettuale, quindi non solo come l'autore di Gomorra. Un intellettuale soprattutto di sinistra, quindi dalla parte del popolo. Come può un intellettuale dalla parte del popolo non denunciare queste dinamiche? Quindi come può non toccare il cartello finanziario speculativo? Come può non toccare chi si è arrogato il diritto di creare la nostra moneta per gli interessi semplicemente della finanza e contro i popoli e contro le democrazie? Come puoi andare in visita da Macron che è un membro di spicco di queste organizzazioni che i popoli li disprezzano e penso che il disprezzo di Macron per i popoli si è avuto. Allora quello che ha avuto Saviano, perciò lo vediamo in tutte le tv, perciò vediamo il suo libro anche negli autogrill mentre prendiamo il caffè, ha capito quale sistema poteva toccare liberamente e quale non doveva assolutamente toccare per essere portato così dai media mainstream.